Sono dieci minuti proprio diciamo abbastanza pratici così metterete in pratica quello che avete imparato oggi e soprattutto insomma so che molti di voi comunque lavorate in un'urgenza e quindi come vi può essere utile l'ecografia, l'ecografia polmonare e il diaframma quando andiamo ad applicare una ventilazione non invasiva. La cosa importante di vedere, vi farò vedere, che non è solo quella che riusciamo così ad applicare in modo corretto cerchiamo di fare meno sbagli perché qua nessuno è perfetto in modo corretto un tipo di ventilazione se non un'altra ma riusciamo già a capire quale può essere la proniosi del nostro paziente a seconda delle modifiche ecografiche che possiamo vedere nel cuore o del polmone quando andiamo ad applicare per esempio una ventilazione non invasiva o riusciamo già per esempio a vedere in un paziente in pronto soccorso di cui noi non conosciamo la storia clinica magari è arrivato in codice rosso con un'ambulanza i familiari poi giungeranno chissà dove o viene da una casa di cura molto spesso senza familiari andare a vedere in generale con l'ecografia per esempio un paziente in distress respiratorio di cui non conosciamo l'anamnesi è molto importante perché possiamo capire anche più o meno se il paziente è già un BPCO se ha un enfisema polmonare, se ha una paralisi del diaframma e tante altre cose infatti questo è un bel lavoro che hanno fatto anche degli infermieri in emergenza hanno utilizzato praticamente la CPAP nei pazienti presi anche da casa in edema polmonare oppure in insufficienza respiratoria però io mi sono chiesta basta solo questo per dire che siamo bravi o comunque ci interessa vedere queste altre cose io penso che adesso dobbiamo scoprire gli occhi perché non è più il tempo di lavorare alla cieca e quindi con l'ecografia riusciremo a sapere un po' che cosa c'ha veramente questo paziente in dispnea che giunge in pronto soccorso e viene accompagnato dal 118 questo bellissimo lavoro di Pischi ci dice che c'è una stretta correlazione del cuore con i polmoni, del resto poi loro vivono insieme il cuore e i polmoni occupano una gabbia toracica che è anche un posto abbastanza stretto e quindi ci devono convivere anche bene questa è un'immagine TAC di un polmone in distress respiratorio vi faccio vedere che se noi applichiamo una pressione positiva sulle vie respiratorie la silhouette del polmone e la silhouette cardiaca cambia di brutto cioè voglio dire che noi quando mettiamo una ventilazione noi andiamo a determinare delle variazioni emodinamiche anche abbastanza velocemente che possono compromettere anche la risposta alla terapia o anche la proniosi del nostro paziente pensate quanto è importante vedere se questa terapia che abbiamo messo è corretta fin dai primi secondi in cui stiamo approcciando un paziente infatti questa è un'immagine però io vi ricordo che da oggi in poi dobbiamo sicuramente pensare che qui dentro c'è anche il pavimento che è costituito dal diaframma e quindi anche il diaframma entra a far parte di quelle modifiche diciamo e ha quella importanza fondamentale nel paziente disponoico o anche cardiorespiratorio in generale e la dobbiamo considerare allora se noi mettiamo una ventilazione sul polmone riusciamo a ridurre lo ventilatore respiratorio poi abbiamo una redistribuzione dell'edema possiamo aumentare la compliance sia polmonare che cardiaca in qualche caso e diminuiamo il lavoro respiratorio anche diminuendo appunto l'affaticamento del diaframma allora io vi faccio un esempio viene un paziente in dispnea in pronto soccorso con questo emogas brevemente no ecco facciamo l'emogas questa che vabbè insomma che è un emogas compatibile per un'acidosi respiratoria quindi abbiamo i nostri orecchi ma abbiamo anche la sonda andiamo a mettere una sonda sul torace di questo paziente e vediamo che cosa possiamo vedere scusate il bisticcio di parole allora possiamo vedere questo che cosa abbiamo? vedete? è troppo si vede? viaggio? sono le linee B è un polmone impegnato un polmone un paziente in edema polmonare e anche per capnico perché diciamo c'ha acqua nei polmoni negli alveoli negli spazi interalveolari quindi diciamo io dire non scambio e quindi si può aumentare anche l'anidride carbonica così come potremmo avere un'altra immagine che è questa che cosa abbiamo qua? un avversamento con un addensamento polmonare e questi quadri sono diciamo compatibili con questa emogassa ancora per cui noi per esempio possiamo applicare una terapia diversa diciamo diversa solo perché abbiamo visto che cosa c'è veramente nel nostro polmone e subito possiamo dare l'antibiotico possiamo dare il diuretico ma possiamo anche semplicemente mettere diciamo una C-PAP o una B-Level allora facciamo finta che questo paziente con questo emogass abbia un edema polmonare questa è l'ecografia del polmone diciamo vista che avete già visto prima metto la mia C-PAP e vado subito a controllare che cosa succede cioè dopo 10 minuti che è successo? che cosa sono queste? linea posso stare tranquilla? io sto molto più tranquilla il paziente sta molto più tranquillo a leggere la Bibbia perché ero un prete e solo dopo 10 minuti anzi addirittura scusate dopo un'ora vado a fare l'emogass che migliora quindi il fattore tempo è importantissimo vedete cosa ho fatto? mi sono rassicurata ma non è che mi sono rassicurata io ho rassicurato il paziente che se la pressione tiene non ci sono altri effetti avversi alla ventilazione io posso continuare tranquillamente quello che sto facendo in modo corretto infatti questo praticamente è un lavoro che è stato fatto soprattutto nei pazienti diciamo intubati perché questi lavori sulla ventilazione e sull'ecografia sono stati fatti diciamo da reanimatori i pazienti più che altro sono intubati però noi dobbiamo estrapolare questo concetto di winning e di reclutamento dovuto solo al paziente intubato noi che siamo urgentisti che lavoriamo in pronto soccorso possiamo utilizzare l'ecografia anche per valutare una corretta diciamo una risposta corretta diciamo anche al nostro paziente non intubato questo studio aveva fatto diciamo uno scorro di linee B in tutti i polmoni e diceva che praticamente in effetti se abbiamo dopo l'estubazione non si ricompaiono le linee B nel polmone che abbiamo liberato dal tubo e se ne compaiono inferiori a 13 diciamo zone abbiamo una proniosi diciamo positiva buona però è quello che abbiamo visto prima se il mio paziente che ci ha messo la CPAP sono scomparse già le linee B e lui sopporta la CPAP anche dinamicamente io so che sto facendo bene infatti questo è un altro caso 73 anni diciamo molto iposemica disponoica andiamo a fare un'ecografia che cosa vabbè dobbiamo aumentare l'ossigenazione pensiamo di mettere la CPAP io sono qua la base a sinistra e la base a destra ci sono differenze tra sinistra e destra a sinistra vedete che vedo un addensamento no? con i broncogrammi come vi ha detto Antonio a destra vedo una tendina che abbiamo visto prima pochi secondi fa ma una tendina sporca con delle linee B vado ancora avanti e mi focalizzo sulla sinistra io ho messo una PEP con una pressione di 7.5 l'aumento e vedete come cambia sono variazioni molto sottili però sono molto importanti per me perché non mi posso fare uno score con l'attack come fanno gli intensivisti vedete qua e se vedete qua iniziano a comparire delle linee B maggiori cioè sto avendo la re-ariazione del mio polmone cioè dall'addensamento quando compaiono le linee B si dica che il mio polmone sta aumentando di nuovo la quota di aria e questo lo faccio subito aumentando la PEP con la mia pallina della CPAP e quindi dicendo che questo polmone sicuramente si rispanderà e sto facendo bene infatti vedete mettendo la lineare questa è la stessa immagine con la lineare mi vedo diciamo il piccolissimo versamento pleurico e la comparsa delle linee B quindi non c'ho più l'addensamento questo è più o meno il reclutamento che avviene in terapia intensiva per i pazienti con l'RDS diciamo grazie anche a una valutazione d'ACMA comunque con i pazienti a bocce ferme diciamo fermi intubati eccetera però noi possiamo fare un piccolo test di re-ariazione anche con la nostra ventilazione non invasiva infatti questo comunque è un altro bel lavoro che vi invito comunque a leggere dove si vede che appunto quando noi facciamo il reclutamento mettiamo la pressione questa immagine che è un addensamento compaiono addirittura le linee A in questo paziente tante linee B scompaiono le linee B e così via questo si chiama reclutamento US guidato allora io vi ricordo che il polmone può essere correttamente areato quando c'è questa situazione A man mano che perde la reazione ve l'hanno detto Francesca ve l'hanno detto Antonio ve lo ripeto io diventa appunto black and white poi diventa white e poi si consolida tutto questo si passa quindi da una quota di aria buona diciamo necessaria alla perdita di aria tanto che si ha il consolidamento nel reclutamento è proprio il contrario che dobbiamo fare cioè il polmone dall'epatizzazione deve riacquistare l'aria e quindi deve passare tutti questi fasi per ritornare al livello diciamo del polmone normale quindi questo è il reclutamento con i colleghi della Simeu abbiamo studiato il diaframma e sono stata diciamo fortunata ad andare a parlare addirittura ad Amsterdam in un congresso di pneumologi quindi diciamo con una breve relazione e in questa relazione facevo vedere quanto il diaframma può essere utile insomma nella nostra pratica clinica questo è un bellissimo lavoro fatto su CEST in cui si vede si studia la zona di apposizione diaframmatica le varie diciamo modalità di respiro del nostro paziente vedete che man mano che la forza dell'ispirazione aumenta diciamo si ha questa curva poi vi spiego che cos'è che aumenta e ci sono anche dei valori normali tutto questo perché veniva fatto sempre nei pazienti solo intubati questa valutazione invece noi la facciamo nei pazienti non intubati con me i colleghi hanno fatto l'esercitazione hanno valutato almeno diciamo hanno visto almeno diciamo che cos'è questa questa zona iperecogena che è il diaframma se noi con una sonda convex ci mettiamo in questa posizione avremo questa immagine del fegato che è noi ben nota valutando la vena cava quando è possibile anche la colecisti andiamo a misurare in effetti il DOM che diciamo sarebbe la porzione più più estrema più alta diciamo del nostro diaframma ok questo a destra successivamente ci mettiamo appunto con le M-MOD e mentre il paziente chiaramente respira abbiamo diciamo questo tipo di curva insomma è una curva questa curva ha diciamo dei valori che sono l'escursione che sarebbe questa che poi vi faccio vedere un tempo ispiratorio un tempo espiratorio e un tempo totale allora il DOM è azzurro il tempo ispiratorio e il tempo espiratorio sono gialli con una misurazione che non vi ho messo l'escursione in rosso e il tempo totale e queste variazioni di tempi si vedono anche quando noi applichiamo un AB-Level e possono essere utili diciamo con ragionamenti un poco più diciamo voglio dire specialistici anche a valutare se noi stiamo facendo bene la nostra ventilazione allora un caso clinico di nuovo questa è un paziente con una BP-Core acutizzata abbiamo fatto insomma l'emogas e vediamo un quadro che vediamo vediamo un quadro di polmone chiaro ve l'ha detto Antonio un quadro di polmone chiaro con qualche linea irregolarità pleurica qualche linea B insomma non ci dice niente andiamo a vedere il diaframma di questo paziente non è più quella linea tranquilla come ho fatto vedere prima un diaframma già diciamo un po' disomogeneo perché è tipico anche dei pazienti insomma che hanno una malattia cronica ma soprattutto con dei valori di escursione che non vi sto a dire tempo ispiratorio e tempo ispiratorio mettiamo una B-Level con quelle pressioni e subito andiamo a vedere che cosa non è più tardi che noi abbiamo comunque modificato la curva del diaframma aumentando il tempo ispiratorio vabbè ma io ne so se va bene questo va bene perché anche l'emogas è migliorato del mio paziente e questo sarà un paziente di cui potrò predire diciamo il winning perché la cosa importante che noi ci dobbiamo ricordare è che quando mettiamo un paziente in ventilazione già dopo le prime ore inizia l'atrofia diaframmatica pensate ai rianimatori che devono intubare addirittura a volte curarizzare il diaframma quindi noi quando iniziamo a applicare almeno nel nostro gruppo così facciamo una ventilazione noi dobbiamo vedere da che partiamo ma soprattutto perché dobbiamo sapere quando possiamo non dico di mettere il paziente ma quando lo possiamo svezzare e un paziente che ha risposto bene così precocemente sarà un paziente che sarà svezzato più velocemente e più facilmente allora io vi dico vi faccio vedere questo io ho fatto un'immagine cioè ho fatto una foto del diaframma di questo paziente che era stato messo dai miei infermieri a 90 gradi un paziente con un pancione incredibile vi faccio vedere qual è l'escursione diaframmatica di questo paziente cioè se vedete è zero l'ho messo a 45 gradi un messaggio che vi dico inizia a aumentare l'escursione è importante anche la posizione dei pazienti quando sono in distresso respiratorio quando li ventiliamo perché se noi mettiamo a 90 gradi come si può abbassare il diaframma che già il paziente è grosso c'è una pressione diaframmatica cioè la pressione anche addominale aumenta e quindi giusto per ricordarlo io ve l'ho riportato vedendo che cosa succede al diaframma è importante quindi valutare la pressione diaframmatica del nostro paziente ed è importante anche fare evacuare il paziente perché riduce la pressione diaframmatica e così è la pressione intra-addominale e così il diaframma diciamo espande più facilmente quasi un ultimo caso questo è un paziente che era un po' hard cioè nel senso che non abbiamo iniziato a fare la ventilazione ma questo paziente come vedete non ha proprio nessuna escursione vedete diaframmatica abbiamo usato un espediente abbiamo usato il levosimendana adesso non mi sto a dire diciamo perché eccetera ci sta l'attiratura però il levosimendana è anche un inotropo diaframmatico e credetemi è vero il 24 di luglio il paziente ha avuto un'escursione ma soprattutto ha migliorato i suoi dati diciamo clinici di Emogas come vi farò vedere se compare non compare va bene comunque è stato più facilmente è stato facilmente diciamo svezzato diciamo non tanto facilmente comunque dopo 5-6 giorni con questo aiutino anche questo quindi può essere utile vedere il diaframma prima e dopo perché noi dobbiamo ricordarci che i pazienti in emergenza diciamo hanno un'atrofia muscolare ci sono studi che hanno anche comparato l'atrofia del diaframma con l'atrofia del basso laterale del quadricipite per esempio e quindi quando inizia una ventilazione quando c'è un distress che può essere anche la sepsi sicuramente tutti i muscoli soffrono e così il diaframma diciamo per alterazioni metaboliche per l'amento di citochina eccetera e comunque anche per la necessità diciamo di aumentare la quota di calcio intracellulare e quale miglior farmaco può essere utilizzato se non il levosimendan allora questo è uno studio che utilizza lo studio del diaframma diciamo con la sonda nella zona di apposizione che è molto affascinante molti dati nel mio gruppo non ci sono perché quando abbiamo iniziato a usare il diaframma non avevamo tutte le sonde però è molto interessante soprattutto per gli pneumologi perché non solo si vede la zona di escursione quindi la capacità di escursione ma anche se il diaframma aumenta l'espessimento anche se di poco un diaframma che non ha un'escursione bassa che ha un espessimento basso è un diaframma che chiaramente non ha una prognosi favorevole cioè il paziente che ha quel diaframma chiaramente vi faccio vedere solo delle immagini dove si posiziona la sonda e che cosa si vede vedete questo è un piccolo versamento che ci aiuta a vedere il diaframma e come possiamo diciamo per esempio studiare la zona di apposizione allora quasi terminato questo è un altro lavoro che porto di colleghi fatti da me in cui abbiamo fatto appunto abbiamo detto che in effetti ormai insomma è necessario nei pazienti con BPCO insomma utilizzare il diaframma perché lo studio del diaframma può predire una risposta positiva alla terapia e anche chiaramente un winning più veloce più agevole e questi sono alcuni quadri di pattern diaframmatico che ho preso diciamo durante le mie congetture mentali questo è del BPCO questo è un diaframma in distress l'avete visto quello che ho fatto vedere il BPCO riacutizzato questo è un diaframma diciamo sottoposto a un'intubazione e questo è un diaframma bloccato di un paziente che veramente diciamo non aveva una buona proniosi perché ricordatevi che l'escursione diaframmatica poi si correla anche una proniosi quad vitam migliore o minore io avrei finito grazie 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 grazie